Mi presento la Lira. Non fai video, per favore. No, faccio video. Non fai video. Non mi fai video. Mi vuole che dire? Non mi fai video. Ma cosa vuole? Non mi fai video. Non mi fai video. Mi mette le mani addosso. Non mi fai video. Basta, non devi fare video. Non devi fare video. Non mi fai video. Non mi fai video. Cosa vuole ancora? Perché dobbiamo fare video?